Aspetta! Turista fai da te? Dario! Sì! Stacchiamo i microfoni! Abbiamo documentato anche il fonico che sta facendosi un pippone con l'alfa Fa il fonico e sto contento! Fa il fonico! Vipere si va? Vipere! Com'è? Siamo! Aspetta! Sì! 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 E' così! E' così! Prova a fermare quei lembi che non entri a dentro! Bellissimo! Ecco proprio... Bene la luce, mi piace! Eh no! Ma sei il fonico il direttore della flora? Vai! Il fonico un l'asta pristica... Vedo. Stop. Mottore. Andato. Facciamo sedere un pochino prima, così prende l'uomo. Il porto è attemporale. Va bene, se voi possiamo avversicare. Vorrei starci in tre ore, se solo per due minuti. Allora, motore. Aspetta che allarga un po'. Andato. Signore. Sono detto. Guarda, chi l'avrebbe detto prima? Vado. Grazie. Oh. No, no, spalso, spalso. Ma guarda te, chi l'avrebbe mai detto va a finire anche che vi vizio. Grazie. Eh? Un, ma... Scusa, ma... Vedo. Ho modo di sapere dove andare. Ok? Stop. Azione. Ma, edo, dov'è? Credo di sapere dov'è andare. Credo di sapere dov'è andare. Ancora, scusate, ancora. Altra scusa più forte. Aspetta. Scusa. Ma, edo, dov'è? Credo di sapere dov'è andare. Allora, la Dario non lo potrà più, perché l'abbandona. No, la Dario non lo potrà più, perché l'abbandona. Tu stavi ridendo così, ok? Pariditemi parire di merda. Riditegli la battuta. Dai, luridi. Azione. Mi giuro, non potevo fare altro. Scusami, guarda, ho con questi occhi che buoni, lì erano belli, però... È una cosa lunga, assolutamente. Ah, sì, ho letto. Non ho raccontato, non ho visto. Però se la rifan tutta, no, ma... Mi hanno raccontato, non ho visto, eh. Non l'hai vista, tu. Non l'hai vista, tu. Non l'hai vista, esatto. Di che gira. Sì, guarda. Anche... Prego, anche questo è il campo, diverso dalla canotecina tradizionale.